Pericolosa quella fascia, Calleon dentro per Mertens, che si ritrova il pallone lì, calcio di rigore per il Napoli che qui ha avuto un colpo di fortuna incredibile. Ribery attaccato da due, prova a girarsi, se ne va via, calcio di rigore! Con diversi dubbi per quello che abbiamo visto.